Questo corso introduce le caratteristiche più importanti del progetto SHARM, the Shared Memories and Dialogue, che riguarda le narrazioni dei bambini creati sulla base delle loro memorie e attraverso la raccolta e l'uso di fotografie. Il corso utilizza risorse e attività interattive innovative per spiegare una metodologia di facilitazione della comunicazione con e tra i bambini in classi multiculturali. Un approccio dialogico delle risorse digitali e l'esplorazione culturale delle narrazioni vengono utilizzati per questo scopo. Il corso è stato creato per insegnanti, educatori, facilitatori e per ogni altro professionista o volontario che ne possa condividere gli obiettivi. Il corso è strutturato in due parti. La prima parte include i moduli che presentano i concetti fondamentali e gli esempi che evidenziano il significato di questi concetti. Le trascrizioni di interazioni videoregistrate durante attività svolte in classe offrono l'opportunità di esplorare situazioni specifiche di comunicazione. Ciascun di questi moduli include esempi tratti da esperienze in classe. La presentazione del progetto SHARM, che termina questa serie di moduli, sintetizza tutti questi elementi. La seconda parte include sei brevi video e le loro trascrizioni. I video sono stati registrati a Modena durante un progetto pilota sull'uso della fotografia per promuovere narrazioni della memoria nelle classi scolastiche. I video e le loro trascrizioni presentano interazioni tra un facilitatore e i bambini che condividono attività e dialogo. I video hanno lo scopo di far apprendere ai partecipanti a gestire la complessità delle attività e a sviluppare abilità nel condurre le attività in modo autonomo e autodiretto. Permettono di identificare i modi in cui sono prodotte le narrazioni, di riflettere sulla negoziazione delle narrazioni e di identificare le azioni del facilitatore e le loro conseguenze nell'interazione con i bambini.